carissimi amici del canale youtube dentro la notizia anche quest'oggi i giusti hanno tanti motivi per allegrarsi la cupola che domina il mondo negli stati uniti sta incontrando molti problemi ma non solo pare che in tutto il mondo le diaboliche elite abbiano tirato troppo la corda e molti popoli oppressi siano arrivati al punto di rottura cioè di non riuscire a sopportare più i continui soprusi e vessazioni e come abbiamo visto ieri questo sta accadendo anche in italia ma procediamo con ordine elencando prima i fatti e poi ragionandoci sopra prima di far questo è bene tenere presente che è in corso una dura e lunga battaglia tra due forze una che vorrebbe imporre la dittatura del nuovo ordine mondiale e l'altra che vi si oppone quindi non sarebbe realistico attendersi un vincitore nei prossimi giorni si aggiungono alla florida di desantis anche i governatori del kansas e del missouri che lunedì hanno detto che non richiederanno ai residenti dei loro stati di mostrare i cosiddetti passaporti vaccinali per entrare in attività commerciali per partecipare ad eventi o per viaggiare in kansas il governatore lora kelly ha detto ai giornalisti non ho alcun interesse per i passaporti vaccinali di sicuro non li emetteremo sotto la mia autorità e abbiamo molte altre cose da affrontare cose che faranno la differenza per la sicurezza e la salute delle persone incredibile sentire queste parole da una dem eppure come vi anticipavo non solo i repubblicani sono contrari ma sempre più democratici si rendono conto che i passaporti vaccinali rischiano di violare i diritti umani ora e in futuro di esporre le persone ad un controllo dittatoriale sullo stampo cinese e non tutti sono così entusiasti di ciò alcuni stati hanno esplicitamente vietato al governo di implementare un sistema di passaporti vaccinali citando preoccupazioni per la libertà individuale la privacy la scorsa settimana il governatore della florida ronde santis come vi dicevo ha ordinato che nessuna agenzia o entità governativa dovrebbe rilasciare alcun passaporto vaccinale e che le aziende non saranno autorizzate a richiedere la prova della vaccinazione ai clienti per entrare nell'edificio o per essere serviti la richiesta dei cosiddetti passaporti vaccinali covid 19 per prendere parte alla vita di tutti i giorni come partecipare a un evento sportivo frequentare un ristorante o andare al cinema creerebbe due classi di cittadini basate sulla vaccinazione si legge nell'ordine del governatore ma c'è dell'altro il programma di passaporti vaccinali di new york sta già fallendo l'idiocrazia cuomo ibm non può produrre un buon prodotto così titola questo articolo leggiamo sostenitori della libertà rallegratevi l'idiocrazia ci salverà da un'altra forma di tirannia covid grazie a una combinazione di autoritari pasticcioni e corporazioni in decadenza queste entità sono semplicemente troppo incompetenti per realizzare un programma di passaporti vaccinali funzionante il sistema di passaporti vaccinali excelsior pass dello stato di new york creato da ibm presenta così tanti problemi che non sarei sorpreso se il programma venisse interrotto del tutto prima della fine dell'anno solare presenta enormi falle di sicurezza una base di clienti in diminuzione rimane incredibilmente poco pratico ed è incredibilmente facile da manipolare excelsior pass fa schifo grazie all'idiocrazia che è stata responsabile della sua progettazione e implementazione beh ottime notizie anche il demone di new york non ha potuto instaurare una dura dittatura e questo credo per alcune ragioni la prima è che un passaporto vaccinale per essere efficace necessita che molti stati se non tutti vi aderiscano e utilizzino le stesse piattaforme condividendo i dati perché in caso contrario è un progetto abortito alla nascita seconda cosa il passaporto vaccinale viola i diritti costituzionali ed è quindi impossibile realizzarlo in maniera del tutto legale quando parte da presupposti illegali terzo per scaricare excelsior pass sui cellulari è necessaria l'ultima versione di android o ios per gli utenti di telefonini che hanno più di 45 anni ciò significa che non sarà possibile accedere all'applicazione a testimoniare il suo fallimento delle 240 recensioni per l'applicazione su ios oltre 100 recensioni hanno ricevuto una sola stella su cinque leggiamo i passaporti vaccinali sono disumani discriminatori e porteranno l'america su un percorso diretto verso un sistema di punteggio di credito sociale simile alla cina che limita i nostri diritti inalienabili la buona notizia per voi new yorkesi è che l'amministrazione cuomo e ibm sono il dream team dell'incompetenza altra sconfitta delle politiche della cabala il segretario del dipartimento per la sicurezza interna alejandro mayorkas ha detto ai dipendenti del dipartimento che potrebbe ricominciare la costruzione del muro di confine per colmare quelle che ha chiamato lacune nell'attuale barriera se si raggiunge la massa critica il popolo può far cancellare le leggi ingiuste infatti un recente sondaggio condotto per il senato opportunity fund mostra che il 53 per cento ora è favorevole alla costruzione del muro e addirittura il 71 per cento chiede politiche più severe verso la migrazione clandestina biden pur rimanendo contrario dovrà cedere alle pressioni popolari e di funzionari di buon senso per esempio il mese scorso il washington times ha riferito che lo stop ha lasciato dei buchi nel muro nella contea di cocisse in arizona dove chilometri di strada erano già finiti ma il muro non lo era lo sceriffo della contea ha detto che i trafficanti stavano usando la strada come autostrada aiutandoli a portare il loro carico illegale sia di persone che di droga più velocemente abbiamo appena costruito strade per i cartelli ha detto lo sceriffo mark dunnells oltretutto ci sono questioni legali che potrebbero costringere il signor mallorcas a proseguire la costruzione del muro infatti il washington times ha riferito a gennaio che esperti di poteri presidenziali e congressuali hanno affermato che l'interruzione di biden probabilmente ha violato quello che è noto come legge sull'impondment control altro colpo alla cabala potrebbe venire dal giudice della corte suprema degli stati uniti clarence thomas che suggerisce che facebook e twitter potrebbero essere regolamentati come le utility il giudice ha sottolineato in un documento di 12 pagine che presto non avremo altra scelta che affrontare il modo in cui le nostre dottrine legali si applicano a infrastrutture informatiche altamente concentrate e di proprietà privata come le piattaforme digitali thomas ha poi affermato nel valutare se un'azienda esercita un potere di mercato sostanziale ciò che conta è se le alternative sono comparabili per molte delle piattaforme digitali di oggi nessuna lo è in conclusione per quanto riguarda il certificato vaccinale i problemi di privacy e di discriminazione delle persone riscontrati negli stati uniti sono gli stessi che si riscontreranno nell'unione europea il buonsenso porterebbe a pensare che non è possibile realizzare un documento legalmente valido partendo da presupposti di illegalità questo pass viola i diritti umani si sente puzzo di tirannia ricordi mai svaniti di decenni passati non vorrei umiliare coloro che hanno proposto e difeso questo certificato ricordando loro i pericoli concreti a cui ci esporrà nel prossimo futuro non fate figuracce ritiratelo subito prima di concludere volevo ringraziare la kiani life che in collaborazione con la h price porta in italia l'innovativo depuratore basato sugli studi del grande ricercatore giapponese masaru emoto ed è il dottor william reich l'unico depuratore che lavora sulla struttura biofisica dell'acqua cambiando i cristalli di h2o e irrobustendo il nostro sistema immunitario creando un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua la kiani life quando ha saputo che youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo senza il vostro aiuto di cui vi siamo profondamente grati non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarsi tramite le mail in descrizione per essere avvisati sull'uscita dei nostri video potete iscrivervi al canale mettere un like attivare la campanella e condividere i video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robin